in un bosco ci sta tutta la metafora aziendale che vogliamo mettiamo che il bosco sia il mercato di riferimento mettiamo che i sentieri battuti e segnalati siano quelli che nel mercato percorrono tutti un po come le autostrade la cosa apparentemente più facile a prescindere dalla salita poi nel bosco come nel mercato ci sono i sentierini laterali che qualcuno potrebbe scambiare per scorciatoie a me piace invece pensare che i sentierini siano l'innovazione come in questo caso anziché andare di qua strada conosciuta si può andare di qua strada sconosciuta cosa accade qua accade che tu ti devi mettere in gioco devi mettere in gioco analizzando come in azienda nel resto analizzando i pro e contro di una stradina che non conosci analizzando il fatto che non è battuta potrebbe essere più veloce ma potrebbe essere anche più in perdia quindi cosa fai dovresti dotarti di strumenti l'azienda si fanno le analisi di mercato nel bosco si tira fuori la bustola o l'app dedicata e si guarda esattamente dove si deve andare tutto questo però ha senso solo se sai dove devi arrivare perché il rischio è quello di girare intorno o di accontentarsi semplicemente di arrivare in un luogo conosciuto ma il vero punto d'arrivo molte volte rimane rimane sconosciuto anche in azienda questa cosa accade move the limiting che cosa ci aiuta beh ci aiuta a capire se uno abbiamo le capacità di metterci in gioco due abbiamo la capacità di autovalutarci rispetto a quello che faremo non è per tutti andare in un bosco camminare per ore senza sapere esattamente qual è il punto d'arrivo se non siamo dei survivor il rischio è che ci venga sete e se non abbiamo preso la bottiglia soffriremo un po di sete se non sappiamo esattamente dove andare il rischio è che arriveremo in posti che non conosciamo e quindi con la fatica il brutto tempo che potrebbe arrivare insomma ci sono un sacco di imprevisti come in azienda quando si affrontano mercati sconosciuti quindi move the limit ti dà gli strumenti per autovalutarti ti dà la possibilità di capire quali sono i tuoi limiti e come li puoi spostare ma soprattutto ti fa trovare gli strumenti adeguati 1 per allenarti 2 per trovare la strada migliore 3 per credere di più in te stesso e nella tua idea che dovrà essere assolutamente un'idea di valore perché perché l'avrai valutata prima insomma se hai intenzione di andare in un bosco preparati bene oppure chiamami ti accompagno ciao buona vita ciao